salve amici questa sera siamo in compagnia di un ospite importante un ospite che eh ci fa l'onore di essere presente sempre sul nostro canale e passo subito a presentarvi il dottor Luigi De Magistris buonasera dottore buonasera dottore io come tutta la nostra redazione la stiamo seguendo da tempo ci siamo incontrati tante volte abbiamo parlato del meridionalismo del PNRR abbiamo parlato di tante cose adesso purtroppo ci tocca parlare anche di questa guerra che sta veramente mettendo a soccuadro non solo l'Ucraina ma sta smobilizzando un po' tutti quelli che erano quelle che erano le nostre certezze ci dà un giudizio su quello che sta accadendo ma è un periodo orribile non ci sono più certezze nessuno pensava mai di poter vivere una pandemia sanitaria che non era furi proprio dall'orizzonte delle nostre menti e stiamo da due anni perché stiamo ancora in piena pandemia seppur in una fase di di minore recrudescenza e mai avremmo immaginato una nuova guerra nel cuore dell'Europa quindi la mia posizione è molto netta quindi ovviamente no alla guerra condanna senza sé senza ma l'invasione di Putin quindi a una guerra orribile e barbara però diciamo anche no questa è la nostra posizione all'invio delle armi dell'Italia e degli altri governi occidentali nel teatro di guerra così come diciamo no all'espansione della NATO che è un'organizzazione militare ai confini con la Russia quindi si ha una soluzione politica diplomatica con un'immediata tregua umanitaria e cessate il fuoco solo con la mediazione con la politica tra russi e ucraini e un ruolo diplomatico che può svolgere l'ONU l'Unione Europea magari la Cina e altri paesi si può costruire questa è la mia posizione un'Ucraina neutrale nel cuore dell'Europa ponte di pace di fratellanza e di una nuova stabilità nel tra occidente ed oriente e anche autonomia e autodeterminazione a quei territori in cui c'è una maggioranza russa io trovo veramente allucinante che stiamo rischiando la terza guerra mondiale con un crollo in atto sociale ed economico anche nel nostro paese per non voler arrivare a una soluzione che poi sembra essere anche accettabile quella della neutralità di uno stato adesso che Putin ha invaso tutto più difficile bisognava lavorare meglio prima le responsabilità politiche evidentemente sono sono di tanti aggiungo e poi concludo che trovo molto grave l'invio delle armi da parte dell'italia perché queste non possono che aumentare il numero dei morti allungare la guerra rischiando un'espansione e poi non si trovano i soldi per calmirare un aumento spaventoso e senza precedenza dei prezzi anche dei beni di consumo di prima necessità però troviamo sempre i soldi per le armi in effetti lei accennava anche in altri interventi all'articolo 11 della costituzione accennava al fatto che questi prezzi sono arrivati alle stelle già da tempo non non è stata la guerra che ha fatto esplodere i prezzi ma bensì noi sappiamo proprio il carburante aveva cominciato già da tempo no queste escalation e poi andiamo a vedere se l'europa è tutta coinvolta in questa diciamo guerra in qualche modo perché poi l'italia è sempre quella che è più cara e soprattutto come diceva lei poi troviamo i soldi per le armi tra l'altro le armi non fanno sì che aumentare il pericolo di conflitto no giusto ma io direi che il governo draghi i poteri speciali di super mario questo presidente del consiglio che sembrava in grado secondo alcuni di risolvere tutto noi già prima della guerra avevamo l'inflazione al sei per cento la benzina al due al litro e le bollette del gas più cento per cento i beni di consumo che aumentavano con la guerra stiamo entrando in recessione il pnrr che aspettiamo tra due anni con lentezze in concludenze in adeguatezze varie probabilmente verrà utilizzato per compensare proprio questo aumento dei costi si viola la costituzione l'articolo undici dove sta scritto l'italia ripudia la guerra mandiamo le armi in un teatro di guerra in modo da farci dichiarare ostili anche quindi poter aprire uno scenario di conflitto ma nello stesso tempo paghiamo il gas di putini quindi con una mano finanziamo diamo le armi all'ucraina e dall'altra finanziamo putin che si finanzia la sua guerra e nel frattempo aumenta nel nostro paese il grano il frumento la pasta quindi beni di prima necessità la benzina le bollette beh insomma io credo che vada fatta una valutazione molto critica ma anche con questo atteggiamento molto guerra fondaio che sembra aver preso le menti anche di alcuni capi di partito che dovrebbero essere progressisti io sto ascoltando le dichiarazioni di Enrico Letta sembra veramente il segretario della nato in alcuni momenti che forse ha maggiore equilibrio del segretario del partito democratico ma io vorrei che si capisse bene che significa la guerra cioè noi stiamo rischiando la terza guerra mondiale anche per incapacità dei leader politici eh europei internazionali di provare a trovare una soluzione i popoli non la vogliono questa guerra i popoli non la vogliono questa guerra sono tiranni signore delle guerre che la vogliono e governi che sono incapaci di fermarla in mezzo c'è la gente che muore soprattutto il popolo ucraino i bambini le donne due milioni di profughi il fallimento totale della politica europea veramente è un grande dolore impegniamoci tutti io sono molto contento di aver partecipato anche a una grande mobilitazione popolare italiana sabato scorso cinquantamila persone a Roma una manifestazione davvero pacifica costruttiva contro la guerra per la pace quindi auguriamoci che abbiano tutti la luminosità e le belle parole del papa perché ci dobbiamo affidare da laici più al papa in questo momento che ai nostri governanti è vero dottore eh ovviamente mh lei è un uomo di sinistra chiedo scusa eh non è razzista in linea di massima non lo si è quando si è di sinistra e però stiamo scoprendo che anche l'Italia si sta mostrando razzista no? Ne parlavamo in altre sedi con altre persone eccetera cioè gli africani no gli afghani no i libici no eh i siriani no eh ben vengano gli ucraini per carità come diceva lei due milioni di profughi bisogna accoglierli in qualche modo perché sono comunque fratelli persone che vanno rispettate aiutate però perché eh in Italia gli stessi politici soprattutto di destra alzano dei muri metaforici contro le popolazioni medio orientali eccetera ma questo è un tema che le ha toccato molto delicato molto importante io sono sempre stato voglio dire da cittadino da giurista da magistrato ma soprattutto da sindaco di una città di mare di una metropoli del mondo come Napoli accogliente sempre Napoli è stato un porto aperto abbiamo accolto i profughi sempre quindi oggi la posizione deve essere di aiutare le nostre sorelle i nostri fratelli ma non farlo solo ora perché hanno appunto gli occhi chiari e i capelli biondi ma farlo anche quando hanno gli occhi neri e la pelle scura sentir parlare Matteo Salvini che è un razzista nel DNA di dire che questi sono veri profughi valla a raccontare ai bambini libici afghani iracheni bombardati dagli aerei della Nato evidentemente quelli non sono o degli americani e non sono quelli bambini donne anziani e le guerre che loro hanno chiamato giuste come quella della Libia oltre aver prodotto decine di migliaia di morti hanno reso il mar mediterraneo negli anni successivi il più grande cimitero di mare dal dopoguerra quindi queste persone per me si sono solo vergognare perché i diritti o sono sempre e per tutti o non sono diritti sono a seconda di se ti piace come i giorni pari e giorni dispari a seconda di chi bombarda come se ci sono le bombe belle le bombe brutte le bombe intelligenti le bombe stupide fa schifo la guerra di Putin come mi hanno fatto schifo le altre guerre certo ecco proprio il discorso delle guerre no noi proprio nel mare Adriatico a quattro passi avevamo la guerra dei Balcani negli anni 90 dove l'America lanciava bombe a uranio impoverito molti soldati italiani ci hanno lasciato le penne no quando andavano a fare queste missioni di pace grazie all'ureano impoverito ma nessuno si scandalizzava fermo restando che condanniamo eh fortemente l'azione di Putin però perché c'è questo squilibrio non è che l'Italia è è quasi uno zerbino degli Stati Uniti ma zerbino è eccessivo sicuramente siamo subalterni sicuramente siamo subalterni noi altri paesi occidentali a distanza di tanti anni dalla seconda guerra mondiale non ci siamo emancipati non abbiamo creato un'Europa con una politica estera di difesa ambientale energetica abbiamo creato solo un'Europa unita per la moneta unica la libera circolazione delle persone e delle merce nemmeno tanto delle persone l'abbiamo visto con i migranti come diceva lei io l'altro giorno assistevo davvero con imbarazzo a uno speciale del Tg1 in cui chi conduceva lo speciale a un certo punto ha detto da non c'è è dalla seconda guerra mondiale che non c'era una guerra in Europa si era completamente dimenticata della guerra nell'ex Jugoslavia dei bombardamenti a Belgrado a Sarajevo in Kosovo in Bosnia le decine e decine di migliaia di morti le le fosse comuni gli stupri etnici i bombardamenti occidentali il lavoro che ha fatto la Nato in quelle terre ma ci siamo dimenticati forse le due guerre in Iraq l'Afghanistan si è andato a combattere in Afghanistan per liberarla dai talebani oggi al potere ci sono gli afghani che umiliano le donne umiliano le persone fragili su un regime assolutamente non democratico l'Iraq vi ricorderete anzi è meglio ricordarlo che per giustificare la guerra gli americani dissero che il governo iracheno che nessuno vuole difendere per carità noi siamo democratici e non ci piace nessun governo dittatoriale però si disse che il governo iracheno stava fabbricando armi chimiche a distanza di anni lo stesso Tony Blair leader britannico dovette chiedere scusa di quelle anche immagini dove l'allora segretario di stato americano Colin Powell andò all'organizzazione delle Nazioni Unite mostrando delle provette con dentro sostanze chimiche a suo dire invece era un falso storico la Libia la Libia aveva giustificata i francesi americani utilizzando le basi italiane quindi noi abbiamo anche noi le mani sporche di quel sangue noi come paese non noi personalmente si doveva stabilizzare la Libia andiamo a vedere la Libia in che condizioni si trova in questo momento con due governi che si contendono la legittimità con una migrazione di profughi incredibile la ex Jugoslavia sventrata questo lo voglio dire perché veramente trovo intollerabile l'ipocrisia anche di alcuni commentatori politici e non solo di questi giorni che distinguono le guerre giuste dalle guerre ingiuste io credo che queste sono tutte guerre in violazione di legge ovviamente da ultima quella di Putin che come ho detto all'inizio è orribile è orrenda va condannata senza se senza ma però oggi non basta condannare come ho detto prima dobbiamo capire come uscire da questa guerra e riflettere anche se non ci siano delle responsabilità in particolare della Nato ad aver non impedito questa escalation nel cuore dell'Europa. Ecco dottore lei prima accennava al Tg eccetera io ho notato nel nostro piccolo che molte emittenti molti mezzi di comunicazione modesti come può essere il nostro magari riescono a dare un'informazione se non migliore ma almeno più giusta viceversa stiamo proprio agli sgoccioli della dell'ipocrisia proprio come si dice proprio siamo proprio alla fine no siamo ipocriti e basta mi spiego meglio noi accendiamo qualsiasi rete nazionale e ci sono questi programmi che si avvallano ormai si parla solo della guerra in Ucraina si fanno vedere delle immagini si fanno vedere 10 20 30 persone che parlano da una città all'altra questi inviati ma ci siamo dimenticati forse che c'è un covid no ancora in atto come diceva lei lei tra l'altro ogni tanto va su queste reti nazionali ad esprimere le le sue idee e grazie a dio che ci sono persone come lei e tanti altri che insomma si ribellano a questo status di cose che sembra che la RAI Mediaset e così via insomma sono egemoni fanno tutti insomma quasi la stessa cosa questi signori per esempio virologi e poi le faccio la domanda sembra che se ne siano andati a casa hanno perso il lavoro si sono portati il letto che avevano nei vari studi se ne sono riportati a casa perché non si parla più di covid non interessa più a nessuno ma non c'è dubbio devo essere sincero che di fronte a una guerra così devastante come una pandemia diventano argomenti assorbenti se non esclusivi diciamo questo ci sta anche il problema è un altro che è fondamentale che ci sia una stampa un'informazione libera autonoma indipendente plurale quello che trovo inaccettabile il pensiero unico che diciamo nella pandemia è stato molto forte là era più facile da consolidare il pensiero unico perché essendo in materia sanitaria dove si facevano parlare soprattutto appunto i virologi gli esperti di sanità e di salute pubblica la politica un po' arretrava sotto certi aspetti così come gli opinionisti cittadini con la guerra ci hanno provato un po' all'inizio ma non riusciranno a zittire le persone il pacifismo le menti libere perché non è che ci possiamo far trascinare in guerra stando anche zitti quindi è molto importante il ruolo anche dell'informazione cosiddetta piccola diciamo con i vari siti online credo che sia tutto molto utile molto utile le mobilitazioni in piazza i cortei le trasmissioni e quello che il pensiero unica non sopporta sono le voci dissonanti io ho visto per esempio l'aggressione che ha avuto da parte di alcuni politici il corrispondente rai da mosca perché si era come dire in qualche modo aveva espresso una posizione che evidentemente non era gradita al pensiero unico e voleva essere messo sotto processo da parte della politica nella commissione di vigilanza della rai questo è brutto perché poi noi occidentali giustamente per certi aspetti ci vantiamo di essere la patria della democrazia dei diritti e delle libertà civili però poi anche da noi prende spazio il pensiero unico la propaganda la criminalizzazione del dissenso no in pandemia non potevi esprimere qualche perplessità sul green pass per esempio che ti facevano il titolo che eri un novax oggi se vuoi fare un'analisi all'inizio hanno provato a dire alle persone come dire che approfondivano il tema che in qualche modo erano pro putin invece credo che pro putin in favore della guerra non ci sia veramente nessuno però è altra cosa quello invece di analizzare come uscire dalla guerra come evitare che diventi più basta come impedire la terza guerra mondiale come cercare di comprendere perché non si è evitato la guerra se poi sono insofferenti i governi i poteri mass mediatici allora stiamo in quello che Pasolini aveva ben previsto un conformismo mediatico politico una narcotizzazione delle coscienze ma diciamo le persone libere ci sono ancora io sono uno di questi sicuramente non mi faccio certo piegare da un ordine costituito che non raramente è violento nell'esercizio del suo modo di essere ecco dottore lei proprio un attimo fa diceva un uomo libero lei ha amministrato napoli metropoli molto complessa italiana alcuni dicono che ha fatto bene altri dicono fatto malissimo eccetera no prima di passare a una domanda tra virgolette scomoda però volevo sapere lei attraverso la sua esperienza sia come sindaco di napoli per dieci anni il che ripeto non è affatto semplice sia per quanto riguarda la campagna elettorale in calabria che tutto sommato rispetto al muro di gomma che c'è ci comprendiamo tutti quelli che sanno le cose è riuscito ad andare oltre il 16 per cento che alla fine è un risultato accettabilissimo no comunque è entrato qualcuno della sua coalizione in consiglio regionale eccetera ecco lei da qualche tempo sta parlando di terzo polo non crede che il meridionalismo quello sano quello progressista quello che guarda avanti e non quello che si è seduto sul cosiddetto borbonismo eccetera possa essere guidato affiancato coalizzato per andare avanti diciamo terzo polo comunque un polo meridionalista senza però fare l'antagonismo alla lega perché sicuramente noi meridionali non abbiamo quel tipo di idea uno contro l'altro abbiamo la pianificazione del popolo italiano se mi permette ma vorrei prima visto che lei ha citato napoli e la calabria magari faccio anche due brevi considerazioni non so poi se lei dopo ci vuole ritornare è chiaro che in democrazia ognuno ha le sue idee quindi ci sarà è chiaro chi ha apprezzato moltissimo il mio lavoro chi l'ha detestato completamente chi ha apprezzato qualcosa e chi meno ciò che conta e poi la valutazione del popolo il popolo mi ha eletto due volte sono il sindaco più longevo della storia di napoli dal milleottocentosei ho governato con tutti i partiti tranne piccoli partiti di sinistra gli altri tutti all'opposizione ho trasformato la città da quella dei rifiuti al primo piano per essere prima a livello internazionale per in italia per crescita turistico culturale poi magari ci possiamo tornare l'esperienza calabrese non è stata una vittoria ma certo non una sconfitta perché da soli una coalizione civico popolare politica senza soldi senza partiti senza apparati nella regione forse più complicata per certi aspetti d'italia alle competizioni regionali con un forte voto anche controllato e di scambio siamo arrivati quasi al diciassette centotrentamila voti due consiglieri regionali secondo partito dopo forse italia io il candidato che ha avuto personalmente più preferenze tra i candidati presidenti quindi sono tutte le condizioni adesso per costruire un progetto politico unitario una coalizione sociale politica che unisca i non allineati mettiamolo in questo modo per sintesi coloro che non si identificano nel sistema che vogliono occupare uno spazio politico lasciato vuoto da chi invece si è accalcato nel potere dimenticando i cittadini attuando la costituzione facendo crescere i diritti oggi potremmo dire anche con una politica che per i diritti e non per la guerra per la non violenza e non per la violenza per utilizzare il denaro non per le armi ma per i bisogni del nostro paese quindi c'è uno spazio politico stiamo lavorando io sto lavorando alacremente in questa direzione mi candiderò e ci candideremo alle politiche del ventitré e ovviamente non può che avere solide basi nel mezzogiorno questo progetto quindi contro l'autonomia differenziata contro il patto bonaccini zaia tanto per farci capire quindi non è solo la destra che vuole l'autonomia differenziata ma è anche un certo centro sinistra ipocrito oggi ipocrita oggi è venuto il momento di schierarsi tra quelli che non sono ambigui io lo dico sempre il momento come sempre mai come in questa fase della coerenza e della credibilità io posso fare sicuramente possiamo fare cose non condivisibili e ci mancherebbe altro ma siamo persone oltre che oneste e libere coerenti e quando agisci con coerenza secondo me il tasso di credibilità e anche il rispetto degli avversari sicuramente aumenta ecco proprio a proposito prima accennavo al meridionalismo e meridionalisti come sa c'è una miriade di movimenti piccoli medi e grandi di meridionalisti c'è il ci sono pure mille anime ovviamente lei se la sente di affermare di essere meridionalista in questo caso guardando avanti chiaramente cercando di accorpare chi ha più o meno la sua stessa idea e comunque l'idea di entrare finalmente in italia non essere più colonia ma entrare in italia come cittadini di serie a e non serie b perché come siamo stati trattati dal mille ottocentosessantuno oggi non mi sembra che siamo tutti uguali ma è anche la mia storia addirittura il mio albero genealogico che è tutto meridionalista io sono nato a napoli vivo a napoli che la capitale sicuramente del sud italia ho genitori napoletani i miei nonni paterni erano lucani mio nonno di origine siciliana mia moglie calabrese un figlio nato a napoli uno in calabria una bisnonna pugliese quindi credo che nel mio sangue se fate le analisi del sangue troverete meridione e troverete sud e io sono orgogliosamente meridionale ma mi sento vicino a tutti sud del mondo non è un caso che il mio riferimento politico da ragazzo è stato cechevara quindi io credo all'emancipazione dei popoli del sud attraverso l'autodeterminazione credo in un'italia unita nelle sue però diversità credo in una grande lotta per contrastare le disuguaglianze sociali ed economiche e geopolitiche territoriali che sono tante e purtroppo questo governo in cui dentro ci sono tutti i partiti o quasi è un governo che acquisce le distanze tra un nord che vuole sempre più ricco e un sud in difficoltà ecco perché non crediamo più alle persone ambigue e anche quelle che fanno vedere che vogliono un'alternativa e poi strizzano l'occhio ad alcuni partiti di governo noi vogliamo un'alternativa vera vogliamo unire e siamo certi che c'è uno spazio se non altro una persona su due non va a votare la sinistra non è rappresentata c'è la delusione forte dell'inganno pentastellato che nel 2018 ebbe un voto straordinario al sud poi deluso e tradito c'è uno spazio e noi dobbiamo avere la capacità pur avendo pochi mezzi poche risorse di arrivare al cuore alla testa di tanti italiani e aggiungo di tantissimi meridionali ecco dottore parliamo per un attimo del pnr poi le faccio la domanda forse più scottante e poi la lascio perché a questo ora lei ha da fare deve dedicarsi finalmente alla famiglia pnr purtroppo c'è tempo perché c'è fra poco un'altra riunione molto dedicata quindi va bene sì pnr come ci difendiamo da questo eh cappio che ci vogliono mettere alla gola e e buttarci perché eh insomma siamo arrivati intorno realmente al diciotto per cento no rispetto al settanta ma speriamo innanzitutto che ci sia questo pnr io lo vidi nascere che era ancora era ancora sindaco nel duemilaventi sembrava che stesse là là il governo per farci avere i soldi stiamo in pieno duemilaventidue di concreto non si è vista ancora nulla dovevano andare il settanta per cento le risorse al sud del trenta al nord ormai stiamo su tutt'altro i equilibri percentuali non si è visto ancora niente draghi lo stesso ministro dell'economia franco e lo stesso governo lasciano già intravedere con chiarezza che una parte di quei fondi dovranno andare a compensare l'aumento dei costi della vita la riduzione del potere d'acquisto sono convinto che faranno pagare al sud il prezzo più alto insomma io non mi fido assolutamente che questo pnr poi vada nella direzione che era quella auspicata del migliorare i servizi migliorare i diritti creare quelle infrastrutture che mancavano e soprattutto andare a consolidare quel settore che più abbiamo visto in difficoltà per chi smantellato nel passato che la sanità pubblica che il diritto forse più importante a cui dovrebbero poter accedere tutti per poter essere curati e per poter come dire continuare a vivere in condizioni dignitose quindi vediamo ma c'è un po sinceramente di scetticismo e anche gli avvenimenti delle ultime ore sicuramente non ci rassicurano. Dottore l'ultima domanda poi la lascio libero ci sono persone che in qualche modo hanno collaborato con lei negli anni e però qualcuno la accusa tra virgolette che lei è troppo accentratore si muove a volte senza consigliarsi con nessuno è un suo modo di fare deformazione professionale avendo fatto il magistrato è caratteriale oppure perché ritiene che a volte nel frattempo che si pensa e si organizza sfugge l'occasione? No questa è un'accusa non vera poi di me insomma parlano giustamente tutti ed è giusto così ognuno abbia la sua idea anzi forse ciò non dico il difetto ma la propensione proprio opposta rispetto a questa considerazione sono molto democratico ascolto davvero tutti do grande autonomia a tutti i miei collaboratori a tutta la squadra a tutti i militanti poi decido certo non sono uno che tentenna che non ha coraggio che non prende le decisioni o che ha il braccino corto del della paura del tennista no come si dice nelle partite difficili quindi le critiche sono sempre legittime e sono anche costruttive ma questa non non ha ragione d'essere anzi io vengo spesso chiamato come dire per unire semmai accade ma questo fa parte della vita non solo politica ma dalla storia dell'umanità che ci siano persone poi che come dire tradiscono che è un termine che non sta solo nella vita degli affetti il tradimento ma sta anche nella politica quello che fa un po' più male quando delle persone sul piano umano non sono leali perché io amo costruire non solo relazioni e rapporti politici ma connessioni umane sentimentali come direbbe a rigoni sono rimasto umano poi per me l'umanità diventa ed è la cosa più importante dalla politica importante ma quello che conta alla fine sono le relazioni umane dottore eh io prima di come si dice congedarla innanzitutto la ringrazio moltissimo di aver accettato questo ennesimo incontro e spero sto stiamo organizzando con alcune persone un incontro allargato persone del suo livello chiaramente eh in modo appunto di creare un dibattito e vediamo cosa ne esce posso avere la sua promessa di partecipazione sicuramente ci sentiamo e mi sarevo con piacere vostro ospite la ringrazio ancora una volta grazie e buona serata e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e visto arrivederci grazie Grazie a tutti.